Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa di oggi venerdì 26 di maggio E allora un cordiale saluto a chi ci segue in diretta, alle 7.30 e a tutti gli altri che ci seguono nelle repliche e on demand sul sito internetocchialanotizia.it Vediamo il santo di oggi, subito con la grafica San Filippo Neri, famosissimo, il sole è sorto alle 5.32, tramonterà alle 20.38 Il tempo per oggi, questa mattina avremo un cielo sereno, il poco più nuvoloso per debole ed innocua attività comuniforme Avremo cielo sereno con temperature minime in lieve diminuzione e le massime in lieve ripresa Anche un po' di vento al mattino, poca roba, il mare inizialmente sarà mosso con moto ondoso in graduale attenuazione durante le ore centrali della giornata Per domani, fine settimana, fine settimana con il tempo bello, sabato e domenica ci sarà il sole con il mare che sarà poco mosso Eventi soltanto di brezza tesa e dunque godiamoci questo fine settimana che potrebbe essere il primo fine settimana dedicato al mare Gli stabilimenti balneari ormai sono in piena attività, sono perfettamente funzionanti, dunque godiamoci queste due giornate di sole Allora ci sono due notizie in primo piano di cronaca, ce ne sono tante di notizie in realtà questa materia sui giornali legate alla cronaca La prima è quella che riguarda Valentino Rossi che ha avuto un incidente ieri con la sua moto mentre si allenava a Cavallara Adesso è ricoverato in ospedale e poi un bambino, un bambino di 7 anni che adesso è in fin di vita perché è stato ricoverato per un otite Una banale otite che però è stata curata male con gli omeopatici Allora partiamo da qua, dal resto del Carlino In fin di vita per una banale otite è curato per 15 giorni con l'omeopatia Il piccolo 7 anni in condizioni disperate adesso al Salesi di Ancona E l'invito a pregare nel corridoio del Salesi I genitori sono in attesa Il piccolo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per liberare i vasi cerebrali Dunque due genitori di Cagli nel dramma per il loro bambino di 7 anni che sta lottando tra la vita e la morte Si sono fidati di un medico, purtroppo di quello sbagliato Che per un otite bilaterale ha somministrato per 15 giorni al piccolo prodotti alternativi Cioè omeopatici, come è noto hanno la pretesa filosofica di curare la persona e non la patologia E il risultato qual è? Il bambino è in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona Due pagine sul Carlino di questa mattina A Fano invece Paci, il proprietario della Profil Glass, l'azienda leader dell'alluminio di Bellocchi di Fano Esulta perché Terna, che gestisce la rete elettrica, dice ci viene incontro E dunque saranno garantiti questi 15 megawatt per una cifra contenuta Che serviranno all'azienda a far funzionare questo nuovo impianto Costato 20 milioni di euro e attualmente in magazzino Proprio perché, come abbiamo già detto più volte, non c'è la corrente necessaria Non c'è l'energia elettrica sufficiente per farlo andare La cronaca su Fano Consegnava le roine in bicicletta a domicilio Un 23enne finito in manette Un fanese aveva preso il posto del compagno tunisino Una fanese aveva preso il posto del compagno tunisino Che era stato arrestato in precedenza Per quanto riguarda il Consiglio Comunale E la votazione sui 90 mila euro da destinare allo stadio al campo sportivo di Fano Riccardo Severi se ne va Dunque niente soldi per lo stadio Colpo di scena sui contributi L'esponente di maggioranza esce con l'opposizione Oggetto del contenzioso Il contributo, come dicevo, di 90 mila euro destinato per lo stadio Ma nella serata di ieri il Consiglio Comunale ha anche stanziato 160 mila euro per coprire le spese di gestione degli impianti sportivi Sostenute dalle società sportive nel 2016 E contributi attesi da mesi Luca Serfilippi della Tua Fano e Davide del Vecchio dell'Udc Hanno ricordato la maggioranza che ancora mancano i rimborsi del 2017 Una scuola ispirata alla Montessori Che attiri bambini da altri comuni È l'iniziativa che è il progetto didattico Che ha in mente il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi E che presenterà martedì 30 maggio alle 18 Nella sala del Consiglio Comunale All'interno di Palazzo del Popolo In piazza Garibaldi a Cartoceto E a Pergola invece Anzi il sindaco di Pergola Baldelli con Varotti Sono andati In Belgio Per presentare Le bellezze e i prodotti Del territorio In particolare della città di Pergola Tartufo, bronzi Ma non solo La cronaca sempre dal resto del Carlino Da Gallo di Petriano Una serie di lutti davvero che ha colpito Così come ha ricordato anche Davide Fabrizioli Sindaco di Gallo Che dice troppi lutti in questo negli ultimi mesi Un'auto tampona un'ape Muore un 73enne Era lo storico custodio del campo sportivo di Gallo Ieri pomeriggio intorno alle 18.30 Ferruccio Battistelli Sposato due figli Lo storico custodio del campo sportivo di Gallo E' morto in seguito ad un incidente stradale Apriamo adesso il Corriere Adriatico La prima pagina dicevamo di Valentino Rossi In primo piano sotto la testata Valentino incidente in motocross Trauma toracico Costole incrinata Adesso si trova ricoverato all'ospedale E sotto invece la fotografia Del luogo del delitto Dove qui siamo ad Osimo Dove c'è quella notizia Di quell'uomo ucciso dal suo collega Ecco i messaggi che inchiodono il Fantino Andreucci chiede su Whatsapp Non scherzo Come si fa a seppellire un cadavere I progetti svelati agli amici Ho il ferro Vado su e lo ammazzo Il movente Forse soldi e droga Però in primo piano vedete anche qua L'otite curata con le omeopatia Un bambino in coma al Salesi di Ancona Due settimane senza antibiotici Il piccolo operato è ricoverato In rianimazione E allora cominciamo il giro di pagine sul Corriere Partiamo dalla pagina di Fano Con la notizia di un incidente stradale Avvenuto in via Roma Sfonda in bici il parabrezza di un'auto Un pasticcere di 45 anni Travolto in via Roma All'altezza del distributore Esso Trasportato dal 118 al Santa Croce Con diverse fratture Un autocarro Ostruiva la visuale La pista ciclabile Senza reali protezioni Nei punti di manovra Si conferma purtroppo Una trappola E quello che è successo ieri Lo potete leggere in questo articolo Sulla pagina di Fano Del Corriere Adriatico Poi sotto la coppia dello spaccio in manette Anche la convivente Dopo il pusher tunisino Arrestata alla fidanzata fanese Cedeva a ruina in bicicletta Lei è una giovane di 23 anni di Fano Lui un 33enne tunisino E attenzione a chi guida con il cellulare Perché arriva davvero il giro di vite Sulla pagina di Pesaro Guida pericolosa con il cellulare Giro di vite Raffiche di multe Stradale e Polizia Municipale Sulle strade In aumento la vigilanza Con l'arrivo dell'estate Ricordiamo che le sanzioni La sanzione in ognuno di questi casi Parte da un minimo di 161 euro Fino addirittura ad arrivare a 646 euro Con la sospensione della patente Se si tratta di recidiva Non solo Oltre alle sanzioni elevate nell'ultimo anno Agli automobilisti Vengono decurtati anche 10 punti della patente Per i neopatentati E 5 punti invece per chi ha conseguito la patente Da più di 3 anni Sulla pagina di Pesaro Vecchio Palace Il restyling Non prima di settembre Bisognerà rimuovere anche l'amianto E si pensa di chiedere i fondi regionali E poi l'addio a Soria Allo storico massaggiatore Noto come John Vigna Il massaggiatore della Victoria Libertas Ai tempi della Max Mobili e della Butangas Oggi il basket piange la sua scomparsa Il funerale Oggi alle 15.30 Nella chiesa di Soria Il funerale di Franco Antonini Da Urbino invece Ancora Sgarbi Che ce l'ha col Partito Democratico Sulla tela del Barocci Sgarbi è furioso Si scusino con me O mi dimetto Il critico Li denuncio tutti quelli del PD Collaboro con loro ovunque Tranne che a Urbino Francesca Ragazza speciale Eccola qua Francesca con la sua mamma Roberta Arduini Ebbene La mamma Scusate La mamma Parla di questa ragazza speciale Della figlia E lo fa attraverso un libro Un libro scritto Che verrà presentato oggi alle 18 Al Collegio Raffaello All'interno dell'attività Che la cooperativa Francesca Organizza per il suo 25esimo compleanno E sotto invece da Acqualagna Il mistero di questo signore Che si chiama Salvatore del Sordo Ed è scomparso da oltre 13 mesi Di lui non si hanno più tracce Più notizie È un pensionato di 85 anni Residente da Acqualagna Ed è sparito nel nulla Dal 5 aprile del 2016 E mercoledì sera La trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto Ha ripercorso le tappe Di una storia Dai mille tratti oscuri Dalla Valle del Cesano Le strade provinciali devastate Baldelli attacca Il PD e Tagliolini Capogruppo di Pergola nel cuore Dice la strada provinciale 12 Accedimenti da ormai Tanti anni L'alta Val Cesano È a rischio Isolamento Donazione degli organi San Lorenzo in campo Esprimere il consenso Alla donazione degli organi Dopo la morte È un atto d'amore Per la vita Con queste parole Il sindaco Laurentino Di San Lorenzo in campo Davide Dellonti Presenta l'adesione Dell'amministrazione comunale L'iniziativa proposta da Atomarche Che è l'associazione per i trapianti di organi, cellule e tessuti In collaborazione con il Ministero della Salute Da Senigallia Entra in scena il popolo della Movida Cambia la viabilità I vigili presidiano Domani c'è la festa di apertura del Giardino del Mamma Mia In arrivo le squadre Anti sballo L'ufficio postale è a rischio Invece sull'altra pagina Alle saline locali non adeguati E sotto invece Il lungomare Alighieri Sempre a Senigallia Piange la sua cuoca Parliamo di Maria Alberta Paolasini Per 25 anni Accucinato nel ristorante da Carlo Gremita la chiesa del Portone Per l'ultimo saluto La 57enne Morta a causa di una malattia Contro cui combatteva ormai da molti anni E un'altra morte improvvisa Questa volta si accascia in bagno per una angioma Michele muore dopo tre giorni di agonia Lutto per la famiglia Massi L'imprenditore di 40 anni Lascia la moglie e due bambini Aveva, come dicevo, 40 anni Si è sentito male intorno alle 7.30 di venerdì mattina Nel bagno di casa A Camerata Picena Dove viveva con la moglie Laura Michele era nato a Chiaravalle Ma tutta la famiglia era originale di Castelferretti Aveva iniziato a lavorare nelle aziende Massi Dei salumifici Non solo Messe in piedi dal padre Già all'età di 16 anni Nel settore del Macello E qui lo vedete in Sella Zino Il cavallo Che adorava Mi pare che ci siamo Abbiamo detto tutto Non c'è altro da aggiungere Per la segna stampa di questa mattina Vi ricordo il nostro numero di telefono 338 4968 250 Per le vostre segnalazioni Quindi se girando o in giro per la città Vedete qualche cosa che può essere utile alla nostra redazione Fate in tutta sicurezza però mi raccomando Fotografie, mandateci messaggi Tutto quello che volete Con Whatsapp E poi la nostra redazione si metterà in moto Per realizzare i servizi Che poi vi presenteremo alle 20 e 30 Nel nostro telegiornale Grazie e a voi tutti l'augurio di una buona giornata